5 milioni e 726 mila euro. Questo è complessivamente l'ammontare dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a disposizione per il sociale. Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno unito le forze, coinvolgendo anche altri comuni della provincia, riuscendo a vincere così tutti i bandi a cui hanno partecipato. Saranno finanziati sette progetti volti all'inclusione di soggetti fragili e vulnerabili. I tre comuni hanno lavorato insieme, è stata una prima prova generale della nuova Pescara, hanno detto gli amministratori. Oggi c'è stato un po' un antipasto di quello che potrebbe essere la grande Pescara, perché logicamente ci siamo seduti tutti attorno, abbiamo eliminato qualunque forma di protagonismo cittadino, abbiamo detto che abbiamo raggiunto un obiettivo, vincere tutti i progetti che erano ammissibili, perché immaginati che un progetto per sempre era soltanto per tre province, e soltanto per tre partecipanti in Abruzzo. Quindi se fossimo andati da soli a Pescara o a Montesilvano significa, ad esempio, che non abbiamo vinto nessuno di due. Abbiamo fatto tutti un passaggio in getto, ma non è stato difficile. Ti dico, abbiamo guardato l'interesse pubblico e quindi è un momento di soddisfazione, perché oggi annunciamo che abbiamo vinto tutti i progetti ammissibili, candidabili, dove ci potiamo candidare, sono 5 milioni e 7, alcuni li facciamo insieme sia a Montesilvano che a Spoltore, altri li facciamo soltanto con Spoltore, altri li facciamo da soli. Siamo orgogliosi come comune capofila d'ambito, perché ricordo che siamo le CAD16 e siamo capofila d'ambito, ed è stato molto interessante cominciare a sperimentare, a lavorare insieme a due mani, col comune di Pescara nella maggior parte dei progetti, anche con il comune di Montesilvano, ma siamo particolarmente felici di poter annunciare che è stato finanziato anche il progetto dove andavamo da soli come ECAD ed è un progetto che Città Sant'Angelo, col sindaco e con l'assessore, hanno voluto fortemente per il dopo di noi, per dare una risposta a quella disabilità adulta che non ha spazi dopo i 19-20 anni e comincia ad essere difficile. Questo progetto, dopo di noi, soprattutto per la disabilità autistica, vuole essere un aiuto e soprattutto un progetto pilota, perché nella nostra provincia non ci sono sedi di questo genere.